Ciao ragazzi, benvenuti nella Clubhouse Oggi siamo un po' in questa bella mappa E vediamo subito di piazzare le telecamere nel migliore dei modi No, l'ho lanciata male Eccolo, eccoli Avanti ragazzi Trovati Vai, 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 occhio, occhio, occhio Che te li visualizzo io, te li visualizzo io Sono lì, spara, 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 spara Questo operatore è potentissimo Anche se non si uccidono le persone ragazzi Con Cavolo, hanno sfondato tutto? Con le sue telecamere È una cosa devastante Vabbè io adesso esco, ma hanno rotto Ah, ha abbandonato la partita Fantastico Ed eccoci qui nel secondo round Mi sto già avvicinando ai nostri nemici Che sono esattamente qua, nascosti qua dentro E vi voglio dire ragazzi Una cosa molto molto importante Ovvero Che se andate nella mia pagina di Facebook Vedete una cosa Molto appunto interessante Ovvero Un bel 18 uccisioni E un paio di morti E come al solito Le cose migliori si fanno Quando uno Non Registra Allora Là non c'è nessuno Qua non sto vedendo nessuno Perché anche Guarda che non volo di sotto Oh là Eccolo là Vabbè io vado dentro Raga C'è C'è Il compagno di squadra Round 2 vinto Come ho fatto a morire con Fuzz Cose allucinanti Capitano E Va bene Va benissimo Così ragazzi Io sto ancora qui pensando Fuzz Dove cavolo ha messo Il coso per sparare Cioè io sono sceso giù dalla Vabbè Ragazzi Ormai siamo 2 a 0 La squadra avversaria È in 4 La cosa mi dispiace un po' Perché Eh Si perde un po' Il gusto della partita Con un giocatore in meno Eh Non è proprio bellissimo Però Ah Hanno proprio spaccato Quindi fatemi pensare un po' Provo a fare un'azione Diversa dal solito Raga Porca vacca 4 contro 4 Meglio aspettare Guavala Ah Perché è morto Qua questo Vi massacro Tutti Maledetti Ah erano passati Da qua sopra E qui raga Ma no Ma stavo correndo Raga Volete muovervi E venire qua Bravo Oh La Ed eccoci Al match point Gli nemici Sono andati In pratica Al pian terreno Sono proprio Quaggiù da basso 5 contro 3 Qua abbiamo distrutto Questo Vabbè io ho sledge Raga Andiamo pure giù Da questa Bravi Bravi Così mi piacete Io invece Vado giù Da questa No Quello è chiuso Dove cavolo è il tipo C'è proprio Una partita Classificata Vinta in 30 Secondi Ed eccoci qua Nella seconda Ah No non l'avete preso Cioè tu avevi il cecchino E l'hai lisciato Va bene Qui nella base di Hereford Veramente bella Operatore sledge Abbiamo trovato già Le due bombazze Quindi Vediamo di fare Del nostro meglio E vi voglio Dire una cosa Io con le partite Classificate Sono Mi hanno In pratica Classificato Come Livello Argento Non mi ricordo Quale Perché so che C'è Argento 1 2 3 Boh Non lo so Hanno messo dei nomi Dei numeri strani E in pratica Perché quelli vanno Al piano terra Io ho già capito Ragazzi Che le partite pubbliche Rispetto alle classificate Beccato con la pistoletta Silenziata Cosa volevi fare Te Non ho capito Dai io entro qua Che mi sono rotto Le scatole Disinnescatore attivo Proteggi Disinnescatore attivo Ma bene Già massacrati così Ed eccoci qua Round numero 2 E vi stavo In pratica Dicendo Questa cosa Alquanto strana Ovvero Che Allora Quelli arrivano da quella Io provo a piazzare Anche Un coso Da questa parte Non si sa mai Che sono arrivato Argento Non mi ricordo Quale livello Oh Oh ma che cavolo Quale livello E Però facendo partite Ragazzi Abbastanza Buone Cavolo Cioè veramente Se guardate Come vi ho detto A inizio video Partite con 18-5 13-2 10 E altre cose Poi Una o due partite classificate Le ho fatte anche qua nel canale Dove Igualmente c'erano Tante kill E ugualmente Argento Io pensavo Di andare Sinceramente Su Una Cosa maggiore Però evidentemente Non è così Cioè ci dovevo pensare Bistard 6-0 Ragazzi Ma che cavolo Ed eccoci qua Match point 5 contro 4 Sempre Per fortuna Perché prima A un certo punto Eravamo in 3 Ragazzi Poi Sono entrate Delle persone Per fortuna Che qua la gente Quitta solo Ormai Le partite pubbliche Così Non mi piace più Fare Cioè non mi piace più Fare partite Ricarica La gente Si deve uscire Della vicenda Da voi Ma perché abbandonano Questi Non ne posso più Io Che scatole Ragazzi Mai più Partite pubbliche Mai più Adesso qua Morirò Anche Spero Spero con Nel Cap Spara 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 Grandissimo Mai più Partite pubbliche Ragazzi Mai Mai più 8-1 Io spero che il video Vi sia piaciuto Miglior giocatore Stranamente Bistard Arriviamo Non so Ragazzi 8 miliardi e mezzo Di like Ditemi Soprattutto Voi se siete Argento Oro In quale Partito In quale Rango Siete Nelle classificate Quindi Qua da Bistard È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video